Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie! Quanto accaduto, solo poche ore fa, è un invito per tutti a riflettere su quanto questa vita non va da sprecare in cose inutili proprio per la sua durata effimera. In una società sempre più improntata all'individualismo, è il momento di rifare la lista dei valori. Le ricerche sono scattate nell'immediatezza, in quanto il tempo fa la differenza. Si è cercato, in tutti i modi, di ritrovare il 75enne Valerio Buoso e il 48enne Domenico Zorzino, inghiottiti dalle acque del Gorzone. I vigili del fuoco hanno lavorato senza sosta, per tutta la notte, sperando in il lieto fine. Questi uomini in divisa, veri e propri angeli in terra, sono fondamentali, in questi casi. Purtroppo, poco dopo mezzogiorno, i corpi sono stati ritrovati in un punto seminascosto del fondale, a una decina di metri da dove si era inabissata l'auto. La gente, hanno spiegato i soccorritori, tratteneva ancora vicino a sé il corpo dell'automobilista. Ma cosa è accaduto? Una prima approssimativa ricostruzione dei fatti, aiuta a farci riflettere su davvero tante cose. Buoso si trovava sull'argine per raccogliere della legna. Tutto ad un tratto, ha visto l'auto muoversi, dritta verso il fiume. In preda alla disperazione, si è messo davanti al fiume, facendo da scudo umano, per impedire che la vettura potesse finire in acqua. In quel frangente, la fatalità ha voluto che Zorzino, poliziotto del reparto prevenzione crimine del Veneto, che stava facendo jogging. La gente, intuendo perfettamente la gravità di ciò che stava per succedere, gli ha urlato di spostarsi ma ormai il loro destino era già segnato. Entrambi sono finiti rovinosamente in acqua. La gente ha chiamato il 113 che, per competenza, lo ha direzionato al 112. Dai racconti di un testimone oculare, che ha assistito alla terribile scena, sembra tutto più chiaro. La gente e l'anziano sono stati visti risalire. Quindi Zorzino ce l'aveva fatta a sottrarre dalla morte buoso, fino a che l'acqua li ha inghiottiti, ponendo fine alle loro vite.